Cantabile è una fondazione iscritta al registro del terzo settore dall'ottobre 2022. Nata a Torino nel 2006, nel tempo è stata registrata come associazione e poi come onlus. Si occupa di cultura musicale, di coralità e di didattica, di ricerca con un'attenzione particolare alle persone che si trovano in stato di disagio relazionale e comunicativo e della pratica attiva della musica possono trarre stimoli per il proprio benessere e per l'apertura verso gli altri. Accanto alle iniziative direttamente curate da Cantabile, sono maturate nel corso degli anni numerosissime collaborazioni con enti, istituzioni e altre associazioni che, seppur con diverse sfumature, perseguono gli stessi obiettivi. Questo sito sarà ricco di testimonianze di percorsi a più mani, che partecipano di una vera e propria rete locale e nazionale. I progetti che impegnano Cantabile perseguono in varie forme le scelte di fondo, di socialità, sostenibilità e cura, prerogative della Fondazione fin dalla sua nascita.